che cazzo gioco ho pagato 12 dollari e 95 per questo film e non saprò mai come va a finire non mi romperete non ti mettere a fare king kong con me se vuoi sta da solo ma se hai bisogno di me allora mi trovi nella stanza di domino a pensare a un finale per il film ah è così forza bello ti faccio il culo ah sì poi vado di là e faccio il culo anche alla tua ragazza sì forza forza e gli aspetta un momento fai un momento e prova a farmi il culo che cazzo fai mi dici che cazzo fai per una donna dai dai ti sparo ti sparo forza lo so che è facile per uno stronzo come te ma sì ma di come puto a cagliarmi quel paletto pensi che io non abbia capito niente ti dico una cosa ecco lo vedi quello nessuna rivolta carceraria mi sono sparato da solo sul dito per soffrire non pensare perché le donne ci fanno diventare tutti deboli ci fanno diventare deboli quelle maledette sono tutte crudeli sanno come ucciderci e quella ragazzina ti sta uccidendo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti